allora signori buongiorno benvenuti bentornati come sempre anche oggi sul canale amotena sci anime e ormai l'avete praticamente imparato registrazione dj eo snow pocket registrazioni in esterna siamo in quel di novegro per un'altra fiera di settore bellissima una fiera di settore tra l'altro che secondo me sarà piena di novità nonché stra piena di persone perché per la prima volta in tanti anni di visite fieristiche abbiamo fatto una coda di questa portata è praticamente stra pieno di gente e devo dire che si prospetta secondo me una giornata veramente interessante sono qua con amici come sempre ci sarà un reportage a tutto tondo avremo anche modo di avere di capire delle informazioni perché ci saranno alcune novità che poi andranno a intaccare quello che il canale di amotena sci anime detto questo io come sempre spero di tenervi compagnia spero che il video possa essere di vostro gradimento e ci vediamo magari con qualche piccolo intermezzo durante la registrazione a fra poco per la registrazione a fra poco Come buona tradizione fieristica ci siamo praticamente persi dopo 5 metri a grandi linee l'uno dall'altro ma diciamo che la cosa è giustificata per l'altissimo numero di persone e di frequentatori che abbiamo detto quindi nella speranza che il tracking del DJ Osmo Pocket stia seguendo la mia persona io ho fatto i primi due acquisti Whisper Me A Love Song volume 4 e 5 che tra l'altro sono riuscito ad avvistare poc'anzi e quindi al momento mi sono portato avanti un po' con ciò che doveva essere preso e adesso comincia la solita parte canonica dell'action figure quindi insomma un po' di soldi di indotto è stato prodotto anche dal sottoscritto e ci vediamo fra poco signori insomma un po' di soldi di indotto 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 Allora signori ci stiamo prendendo un attimo di riposo e che per chi di voi ha l'occhio particolarmente lungo e riesce a leggere sulla verticale della mia testa Ora ovviamente alzerò vedete quella che è la sorpresa e la notizia secondo me molto bella per il canale quando si vogliono fare delle joint venture delle trade union sono lo stand di Akiba Merch per chi mi segue non so di cosa parlo vi lascio il link e il riferimento in alto perché sono venuto a trovare un signor negoziante ormai un amico anche Michele e perché si è deciso finalmente di cominciare a unire l'utile al dilettevole e quindi a fare delle recensioni di action figure Ovviamente anche di un certo calibro e mi riferisco sempre a quella che ho comprato la volta scorsa lo potete vedere dal mio stand lo stand in questo caso di Akima Merch disegnato sempre da Michela, Michio, Yume e Noe Kidashi Quindi avremo degli unboxing con cadenza solitamente mensile di pezzi particolarmente notevoli a volte anche per solati o a volte anche delle super offerte io avrò il modo il piacere di fare delle riprese in 4k e di farveli vedere Quindi una carrellata veloce e due parole velocissime anche con l'owner con l'utente Allora signori come vedete purtroppo l'attrezzatura è quella che è Ramingo full DJ Osmo Pocket Sono qui con ormai lo conoscete il mio negoziante di fiducia per il mondo fieristico con il quale appunto abbiamo deciso vi saluta di fare questa avventura in cui io metterò il mio viso La mia competenza ovviamente per fare al meglio quelle che sono le registrazioni di action figure e lui ovviamente sarà il mio mecenate E' colui che le sovvenziona ovviamente poi le riprende non è una regalia gratuita ma almeno insomma ci facciamo conoscere Ve lo inquadro un attimo per una presentazione rapida Grazie, ciao a tutti ragazzi sono Michele di Akiva Merch vi ringrazio di seguire il fantastico canale Grazie, grazie mille e quindi adesso io ovviamente non facciamo delle cose ancora più lunghe Perché insomma c'è anche la gente è giusto che Michele sia in cassa e ovviamente venda Per cui insomma era giusto farvi sapere che da oggi cominceremo questa nuova avventura Quindi già dalla prossima settimana barra dieci giorni cominciate a trovare sul mio canale Quelli che sono dei montaggi in 4k ad altissima risoluzione dei pezzi che Michele mi manderà da recensire Quindi mi raccomando a tutti su Amo Tenasci Anime e ci vediamo sul canale Stay tuned, ciao ragazzi Ciao 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 Allora signori una delle ultime se non l'ultima ripresa prima di salutarci In esterna quindi fortunatamente momentaneamente sforniti di mascherina FFP2 Tra l'altro il sole in questo proprio preciso istante ha deciso di uscire accecandomi in maniera completa E grande fiera sicuramente molto bella avete visto il nuovo accordo che è stato statuito con Akiba Merch Per cui avremo almeno una volta al mese action figure una certa caratura da poter recensire Ovviamente poi seguiranno tutti quanti i dettagli sul canale ma questa è una preview Per cui mi raccomando ragazzi le soliste cose se già sapete iscrivetevi al canale e condividete like social Grazie per avermi seguito e poi ci vediamo qui per nuovi interessanti video E ovviamente per le recensioni dell'action figure che verranno mandate da Akiba Merch Che nel frattempo vi confermo è diventato rivenditore Good Smile Company ufficiale Quindi grazie ancora e poi ho un saluto dopo oppure chiusura di video Buona giornata a tutti, Gianne, bye bye